Per prima cosa inserite nel boccare la scorza di 2 limoni e lo zucchero, azionate il bimbi 10 secondi, velocità 10. Aggiungete la farfalla, le uova e il pizzico di sale. Azionate il bimbi 6 minuti, velocità 4. A parte sciogliete il burro nel latte caldo, io l'ho sciolto a microonde, 30 secondi. Anzi l'ho scaldato, scusate. Aggiungete la farina, la fecola, il lievito, azionate il bimbi, 2 minuti, velocità 3. Dal foro inserite il latte a filo con il burro. Imburrate ed infarinate uno stampo, quindi per circa 30 minuti. Forno a 175 gradi, preriscaldato, statico. Eccola pronta, ho spolverizzato con zucchero a velo. Spero che questa videoricetta vi sia piaciuta. Naturalmente è morbidissima. Guardate, io vi lascio alla prossima. Un bacio.